Tanto tuonò che piove. È arrivata la settima giornata, la prima gioia da tre punti per una formazione pugliese in prima divisione. Nella domenica, in cui il Barletta ha osservato il turno di riposo, è stato il Lecce a sfatare un tabù durato un mese e mezzo. Primo successo in campionato dei Salentini, capaci finalmente di regalare una gioia ai propri tifosi. Il blitz di Pagani, al cospetto di una squadra, quella campana poco più che modesta, porta alla ferma di Dumbià, a segno con il Mancino, è capace di rompere un incantessimo che rischiava di cancellare qualsiasi veletà dei giallorossi di Lerda. Sapevamo che qui non potevamo avere dieci occasioni di gol. Ne abbiamo avute 4-5, uno l'abbiamo concretizzato. Punto. Questo è il campionato, questo avevo chiesto ai miei ragazzi oggi. Servono altri segnali però per dimostrare di aver superato il momento o no. La vittoria con la Paganese è solo il primo passo dell'operazione riscatto, utile a lasciare l'ultima posizione in classifica. Ora la maglia nera del girone B è solo della nocerina e portarsi a meno 4 dal nono posto. Obiettivo minimo di una squadra costruita per ambire a qualcosa di molto più importante. Ieri invece non è sceso in campo il Barletta per via del turno di riposo. I biancorossi di Neve e Orlandi, alla ricerca ancora della prima vittoria in campionato, torneranno a lavorare domani pomeriggio al Puttigli e cominceranno a preparare la gara casalinga di domenica prossima contro la matricola Rivelazione L'Aquila, vice capolista del girone e vittoriosa anche ieri in casa con il Grosseto, gol di Del Pinto nel corso del primo tempo. È una squadra che ha delle buone qualità, ha una propria identità di gioco, è una squadra che bisogna stare molto attenti ma noi giocheremo la nostra partita come abbiamo fatto sempre con le altre. Contro gli abruzzesi infine Orlandi sembra orientato ad insistere sul 3-4-3, visto all'opera già nel derby di nove giorni fa contro i Lecce. Un equilibrio che abbiamo trovato tra la fase difensiva e la fase offensiva, in virtù di quelle che sono le caratteristiche di questi giocatori, in questo momento hanno fatto bene, vedremo, l'abbiamo provato anche in questa settimana ma miglioreremo anche questo aspetto settimana prossima.